Ma in che senso il TalkMed lo faccio quando voglio e dove voglio? Questa domanda mi è stata fatta dopo la pubblicazione del contenuto su come ci si iscrive al Talk e mi sembrava interessante approfondire questo argomento. Nei vari passaggi dell'iscrizione che vi ho spiegato avevo detto che puoi selezionare la sede universitaria e la data in cui si intende sostenere il Talk. Questo però ovviamente non vuol dire che puoi scegliere di fare il Talk il 25 dicembre a St. Moritz. Ovviamente la sede di svolgimento la puoi scegliere solo tra quelle indicate nel menu perché deve rispettare delle richieste minime di connessione e sicurezza. Cioè se le sede avessero anche il servizio bar ok, è un plus però ovviamente il Talk non è che può essere fatto dovunque. E anche la data è all'interno di un periodo temporale definito. Nel 2023 è stato aprile e luglio la prima sessione tra il 13 e il 22 di aprile la seconda tra il 15 e il 25 luglio e quindi i candidati hanno potuto scegliere la data all'interno di quel range temporale. Altun secondo, ti è utile questo contenuto? Te ne vorrei portare tanti altri ma per farlo occorrono molte risorse strumentazione, tempo, videomaker, grafici, programmi, eccetera. Quello che puoi fare proprio ora è sostenere questo progetto offrendomi l'equivalente di un caffè al link che trovi qui sotto oppure entrando nella community. Tutto verrà usato per portarti sempre più contenuti. Inoltre puoi iscriverti al canale mettere mi piace e condividere questo video. In questo modo ci farai crescere e ci permetterai di collaborare con realtà sempre più importanti e dunque portarti nuovi contenuti. Perciò proprio tu puoi fare tanto per questo progetto. Quindi c'è ampia possibilità di scegliere delle sedi che sono anche molto comode per te però solo tra quelle disponibili e in un periodo di tempo che però viene detto con largo anticipo così da permetterti di organizzarti. Io ti saluto, se hai domande lasciale nei commenti e ti do appuntamento a un prossimo video. Ciao!